In collaborazione con UNESCO, l'astigiano candidato a patrimonio dell'umanità. Gli equipaggi della squadra mobile della questura di Asti sono stati impegnati l'altra notte in un servizio straordinario di controllo del territorio. Per contrastare la prostituzione sono state individuate 12 persone, di cui 11 straniere, 3 donne africane e 3 albanesi sono risultate irregolari. Tutte e 6 saranno oggetto di provvedimento di espulsione. A Asti ieri sera una donna all'incrocio per Castiglione è stata travolta da una Fiat Punto guidata da un uomo di 40 anni. Stava attraversando la strada non distante da casa, le sue condizioni sono apparse gravi ed è stata ricoverata all'ospedale di Alessandria. I medici si sono riservati la prognosi. E grazie all'esperienza di un cassiere della Cassa di risparmio di Piazza Vittorio Veneto, ieri è stato sventato un raggiro, un anziano voleva prelevare 4.500 euro. Il bancario ha chiesto informazioni e si è insospettito. L'uomo ha raccontato di voler prelevare l'ingente somma per risarcire due donne che sostenevano di essere state urtate dalla sua auto e che pretendevano il rimborso di un orologio di valore andato distrutto. Per questo lo attendevano fuori dalla Cassa di risparmio con i 4.500 euro. Il cassiere ha chiamato la polizia e le donne si sono dileguate prima che gli agenti potessero intercettarle. Ed il trionfo di San Damiano al Paglio di Asti con la festa di sabato scorso organizzata dal Comitato Paglio alla presenza del fantino vincitore Massimo Coghe saranno oggetto di un approfondito servizio straordinario che sarà mandato in onda su Telecupole domani venerdì alle ore 21. Oltre ai festeggiamenti a cui hanno preso parte oltre 700 persone saranno riproposte le immagini della gara e numerose interviste ai protagonisti domani dunque venerdì alle ore 21 su Telecupole. E praticamente invariate rispetto alla settimana scorsa le quotazioni di ieri alla Borsa Nazionale del Tartufo Bianco del Piemonte istituita presso la Camera di Commercio di Asti. Tra i trifulau sono stati contrattati dai 130 ai 180 euro al lettogrammo i tartufi di pezzatura medio-piccola che corrispondono a 180-230 euro al dettaglio. I tartufi più grandi invece vengono pagati ai cercatori dai 180 ai 230 euro che diventano dai 230 ai 290 euro al lettogrammo per i consumatori. E sabato prossimo l'associazione astigiana Yamis Dla Pera segnerà l'annuale premio Urdin Dla Pera a Giancarla Maina titolare della storica fabbrica meccanica di Corso Alessandria. La cerimonia di consegna avverrà alle ore 20.30 durante la cena con Yamis in programma all'Asta Hotel. L'azienda Maina nata 125 anni fa è all'avanguardia nel settore delle trasmissioni meccaniche. E con questo da Asti è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci ai prossimi collegamenti. In collaborazione con UNESCO, l'astigiano candidato a patrimonio dell'umanità.